buongiorno a tutti faccio un video su un argomento che mi è caro e su cui sono già mi sono già espresso in passato che è stato comunque abbastanza sviscerato sia su internet che su altre piattaforme reali diciamo ed è quello dei complottisti e colgo l'occasione del fatto che adesso sembra che stiano ripartendo i contagi e quindi stanno ripartendo anche un pochettino le polemiche di complotti di non esistenza del virus eccetera su cui non vado nel merito quello che mi preme mi tocca di più invece discutere è la psicologia del complottista che generalmente è una persona molto convinta di alcune sue tesi e che ha la tendenza anche a cercare di diffonderla perché di base è convinto di aver raggiunto una verità che ha scoperto lui o pochi come lui ed è gli altri non se ne accorgono ed è importante che tutti si convincano e in questo fa una specie quello che in psicologia si chiama identificazione proiettiva cioè il tentativo di convincere gli altri perché fondamentalmente c'è qualche dubbio anche dentro di sé questa l'identificazione proiettiva al di là di questa descrizione del complottista sintetica questo meccanismo psicologico è un meccanismo condiviso da tutti la grande maggioranza delle nostre convinzioni si basa e parte che possono essere più o meno corrette ma si basa su degli elementi emotivi cioè c'è una nostra storia ci sono delle preferenze psicologiche ci portano a credere alcune cose piuttosto che ad altre poi ci aggrappiamo queste cose vediamo per assodate questo si vede tanto più cioè se uno non lo fa ovviamente non se ne accorge ma si vede invece molto quando uno ha a che fare con persone diverse con culture diverse perché è lì che ti accorgi che molte cose che tu dai per sicure vere e basta neanche tipo il problema nel confronto con altre culture ti accorgi che non è così o comunque almeno altre culture non la pensano come te questo fa scattare dei meccanismi di difesa che laddove sono non sono troppo forti possono essere abbassati e permettono di mettere in discussione le proprie idee che però è una fatica una sofferenza anche ed è proprio questo il punto cioè perché è così difficile convincere il complottista che ha torto perché detto banalmente questa la questione ma in generale perché chi è convinto di qualche cosa ha un suo equilibrio una sua serenità e un suo narcisismo in questo ma comunque un suo equilibrio di essere convinto di di avere una visione della realtà corretta magari anche in maniera inconscia cioè non è che dice io so tutto è una percezione nel momento in cui questa percezione viene messa in critica in dubbio si va a toccare un equilibrio psicologico che se accettato fa scattare un meccanismo normale in certe persone più gravi più più forti in altri di meno ma normale che porta alla depressione leggera ma la depressione perché nel momento in cui noi ci accorgiamo di avere torto scatta un meccanismo depressivo allora il complottista quando gli viene fatto notare che sbaglia che le sue teorie sono sbagliate sono campate in aria e altre cose prima di tutto difende la sua identità psico il suo equilibrio psicologico ed è per questo che è refrattario alle critiche ovvio che questo vale anche per altre persone che sono convinte però qual è la differenza di una persona equilibrate che cerca di lavorare su questa questo difetto della natura umana che viene chiamato bias di autoconferma in questo senso e cioè di essere convinti di essere nel giusto e di non essere neanche consapevoli di essere convinti di essere nel giusto ma di pensare semplicemente io so e basta senza neanche porsi il problema quindi il primo passo verso la consapevolezza dire è accettare il difetto umano di pensare di essere nel giusto io ricordo che lessi la critica di uno psichiatra credo di un suo collega che molto grande comunque e quindi si stupì lui stesso ma comunque raggiunse una consapevolezza buona anche se forse un po tardi soprattutto considerato che era una psichiatra non ricordo chi fosse ma mi ha colpito perché questo psichiatra parlando con il suo collega gli diceva sai che mi sono accorto che io fino a una certa età ero convinto che chi non era d'accordo con me o fosse stupido o fosse in mala fede il che da un punto di vista dell'analisi statistica e di quello che sono le persone è altamente improbabile però è una percezione umana a cui tendiamo tutti qual è la differenza tra la persona che ha una buona cultura si è confrontato con varie culture e ha fatto anche un po di analisi se stesso non è che non abbia questo difetto psicologico questa tendenza di bias psicologico ma ne è consapevole e dice allora io sto discutendo con una persona paradossalmente io sto discutendo con un complottista potrebbe aver ragione lui ok potrebbe aver ragione lui detto questo per quella che ho sempre detto che è la teoria della montagna di merda non è che si può dare retta a tutti perché sennò perderemo il tempo a seguire le teorie più strampalate e la vita è una le ore del giorno sono 24 quindi bisogna fare anche una scremazione ma deve essere fatta deve essere una scremazione ragionata sapendo che si può sbagliare e sapendo soprattutto che si può sbagliare pensando di dare più attenzione a quelli che sostengono la nostra teoria piuttosto che quelli che vanno contro questo è un vecchio metodo volete convincere qualcuno tra virgolette dategli ragione il venditore quando il venditore o chi vuole convincervi sedurvi fa un cold reading fa una lettura psicologica della vostra personalità vede che cosa per voi è importante e cerca di allinearsi nel norm verbale nelle convincimenti eccetera a quello che è la persona a cui vuole vendere qualcosa cioè si allinea vi dà ragione e questo cosa fa scattare nella persona che non è consapevole in tutti fa scattare questa cosa ma chi non è consapevole poi non è non se ne rende conto fa scattare una simbattia automatica che fa abbassare le difese e poi il venditore entra con la vendita questo quindi cosa voglio dire che con il complottista in generale visto che capita di discuterci eccetera è capitato anche a me in parte è una perdita di tempo se andiamo solo su vie razionali fermo restando che cioè o meglio le vie razionali sono la scelta migliore proprio perché la scienza cos'è il bello della scienza del metodo scientifico che permette di combattere il difetto tutto umano di dare ragione a quello che ci sembra che sia giusto se c'è un'etica se c'è una forza etica è quella di non credere le cose che ci fanno comodo ma andare contro questa tendenza per cercare la verità anche laddove ci crea fatica ci crea stanchezza ci crea dolore non è facile l'essere umano come psicologia e come equilibrio tende in altre direzioni però bisogna esserne consapevole bisogna se c'è un'etica l'etica per definizione uno sforzo perché sennò non sarebbe come tutte le leggi non sarebbe imposta le cose che sono automatiche non hanno bisogno di essere imposte secondo me in etica una delle cose più importanti quella di sapere andare alla ricerca della vita al di là o spesso contro c'era un altro filosofo che diceva che quando noi abbiamo una l'opzione tra due possibilità che ci sembrano entrambe vere e possibili e non abbiamo tanti indizi su quale sia quella corretta eticamente parlando è sempre meglio propendere per quella che a noi dà più fastidio quella che ci crea più problemi perché noi inconsapevolmente in maniera anche incomprensibile tenderemo sempre a darci più ragione verso quella che ci piace quindi questo per un corso etico ed è per questo che io nel complottista ecco qual è il difetto che viene nel complottista a parte il fatto che secondo me non hanno delle basi razionali e questo è un problema perché cerchiamo di metterci sui piedi razionali eccetera cerchiamo di guardare a 360 gradi mi sembra che i complottisti tendano a essere molto poco propensi alla critica nel senso di di andare a vedere chi pensa diversamente da loro tu credi che il coronavirus non esista va bene è una teoria sbagliata secondo me è una teoria come tutta la teoria anche la teoria che la luna è fatta di formaggio è una teoria è una teoria ma sei andato a vedere a informarti su chi critica questa teoria perché è un po come quelli che in generale tutti quelli che hanno le fedi più irrazionali sono più difficili da smontare quelle razionali capito uno più uno che non fa due più difficile da sostenere ma le tesi più irrazionali sono più facili da sostenere per i complottisti perché sono più difficili da falsificare a livello di popper ma io dico va bene tu credi una cosa mi sta bene quanti pensatori articoli testi sei andato a vedere che dicono il contrario di quello che pensi tu da questo io capisco la tua onestà intellettuale poi i cantonate le prendono tutti le prendono gli scienziati a maggior ragione le prendono persone che magari non sono del settore ma anche persone del settore ma almeno mostra questa grande onestà intellettuale vatti a informare su chi la pensa diversamente e quindi quello che si può fare con un complottista che tenderà sempre a vedersi il salvatore del mondo tendenzialmente a vedersi il salvatore del mondo come lo tendono a fare tutti e precisiamo è questa cosa qui quindi la mia risposta è volete perdere tempo per discuteteci non volete perdere tempo dategli in parte ragione però invitato a fare questo ragionamento qui poi se sono fiori fioriranno insomma uno butta un seme poi se il terreno è fertile magari comincia a fare uno stimolo io personalmente sono cresciuto confrontandomi con dei pensatori che mi hanno spronato a mettere in dubbio tutto bellissima la frase di Bertrand Russell è sempre utile mettere un punto di domanda a tutte le convinzioni forti che noi abbiamo qualunque esse siano poi ovviamente bisogna un attimino anche vivere e quindi bisogna anche fare altro però ed evidentemente questo mi ha formato mi ha segnato e anche in questo ci sono dei limiti però io lo vedo come la base etica e vi dico se a me dà fastidio un po certi meccanismi di pensare sono questi del fatto che vedo che le persone convinte anche per il Dunning Kruger altro teoria che poi mi metto nel link di cui ho parlato spesso e rischiano di prendere cantonate ora se c'è una cosa positiva è quella di cercare di interpretare la realtà nel modo più corretto possibile perché interpretando la realtà nel modo più corretto possibile che possiamo agire su di essa e migliorare il mondo se vogliamo lo dico in maniera un po grezza perché ovviamente più complesso di così ma vogliamo migliorare il mondo il modo migliore non raccontandoci delle favole che se io c'ho il tumore e mi racconto che passa con lo zucchero muoio di tumore se c'è il tumore e vado verso quelle che sono le teorie più corrette mediche per curarmi forse qualche possibilità di curare questo vale per gli individui per la società per le azioni per tutto quindi se c'è un'etica è quella di andare a cercare di leggere la realtà nonostante i nostri limiti umani il più obiettivamente possibile con più umiltà possibile come sempre aspetto delle opinioni in merito e magari se qualcuno ha avuto da che fare con i complottisti sarei curioso di sentire la sua la sua esperienza io mi sono accorto devo dire che mi hanno anche un pochettino stimolato anche la mia mio fastidio motivo forte devo dire e sarebbe interessante anche capire perché anche questo comunque sono curioso di sentire altre esperienze e vi ringrazio per avermi seguito nel prossimo video e vi ringrazio per avermi seguito nel prossimo video